Ciao a tutti, ben trovati sul mio canale Elena Tionelty Life Coach, ci occupiamo di manifestazione intenzionale e consapevole sulla base degli insegnamenti originali di Neville Goddard, sono sempre la vostra MindBodyMindset Manifestation Coach e Trainer prediletta ora, do il mio più caloroso benvenuto alle nuove persone che si sono iscritte e che hanno appena scoperto questo canale a tutti gli iscritti, agli affezionati e agli abituati, il video di oggi fa il paio con quello uscito ieri, riguarda come dissolvere la resistenza, ieri ho utilizzato una delle mie pratiche di base, una pratica mind body, mente corpo, per aiutare tutte quelle persone che hanno una sensazione di costrizione del corpo quando fanno le affermazioni o quando pensano allo stato del desiderio realizzato, insomma tutte le volte che pensi che una cosa sia letteralmente impossibile, facevo l'esempio di un'affermazione come per esempio guadagno 10.000 euro al mese ogni mese e a seconda della posizione della tua coscienza la maggior parte delle persone ha delle credenze estremamente limitanti, delle cornici di scarsità come diciamo in eurosemantica sul denaro, sul significato del denaro, sull'energia del denaro, sul merito e molto molto attracura. Ok, prima di addentrarci nel vivo del tema di questo nuovo video ti raccomando se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale, lo puoi fare dall'icona in basso nell'angolo a destra del tuo schermo oppure nel bottone o nel link qui sotto il video, metterò un mi piace e in questo modo YouTube ti consiglierà più video nel tuo feed, ti farà visualizzare più video su questi temi nel tuo feed e attivati la campanellina delle notifiche in questo modo YouTube in persona ti avviserà di ogni nuovo caricamento. Nel video di ieri ti ho accompagnato in una pratica per ovviare a questa sorta di contrazione fisica quando fai un'affermazione tipo convivo felicemente con la mia persona specifica eccetera. Ho l'esempio prima del denaro oppure sono perfettamente sana, sono perfettamente guarita, sto meravigliosamente bene eccetera. Specialmente se hai una giornata no. Nel video di oggi voglio portare l'aiuto per quanto riguarda se quella pratica non risuona con te, non funziona per te, non riesci a capirla bene, è troppo strana o la trovi non così semplice da applicare. In genere questa è una micro micro componente di sessioni che hanno molta più sofisticazione interna e dei pattern in cui io guido le persone da tantissimi anni, da 2012, primariamente come il coach. Mi occupo infatti primariamente di aiutare le persone a dissolvere il dolore nociplastico e quindi è solo una micro porzione di un procedimento molto più elaborato e sofisticato in cui le persone hanno bisogno di essere guidate almeno le prime volte e poi riescono. Ovviamente l'idea del coaching è rendere indipendenti le persone e dare loro la possibilità di partorire da se stesse la propria verità e di quindi proseguire con le proprie gambe anziché restare agganciati a un qualcosa che perdura nel tempo e che in realtà non funziona molto bene. Se dai a un uomo affamato un pesce lo sfami per un giorno ma se gli insegni a pescare lo renderai indipendente per tutta la vita e poi lui potrà insegnare ad altre persone a pescare. E questa è la differenza tra creare una dipendenza con le persone e rendere le persone indipendenti. E io adoro rendere le persone indipendenti, felici e in grado di rivoluzionare meglio le proprie vite e tirare fuori il vero potenziale che hanno. E quindi sono estremamente felice che tu sia qui. By the way, stay tuned, stay fine tuned, stai sintonizzata fine di precisione per il video che uscirà domani perché voglio parlare della I am story che crea la tua realtà perché di recente ho fatto una chiacchierata con uno dei miei colleghi oltreoceano Tom Caring che è uno dei coach trainer formatori top a mio modo di vedere perché va a lavorare proprio con le scritture oltre che sugli insegnamenti di Neville e domani uscirà il nuovo video dove riprendo un aspetto che riguarda proprio le affermazioni, come noi creiamo la nostra realtà, le storie che ci raccontiamo perché ovviamente come ti ho sempre spiegato qui sul canale ci sono diversi video in tema. Crei quello che dici, avracadabra, creo quello che dico, quindi la manifestazione fondamentalmente è una profezia autoavverante. le parole come dico sempre non sono la realtà ma la scolpiscono e la determinano. Questo lo insegno dal 2012 da quando sono diventata coach professionalista ma in particolar modo stavo proprio l'altro giorno avendo una meravigliosa conversazione con questo formatore e abbiamo parlato proprio di questo e notiamo che nelle sessioni di coaching, nelle sessioni di coaching quando vieni da me, quando le persone vengono da noi e ci spiegano la propria situazione e ci raccontano le pratiche che stanno usando per manifestare non soltanto noi, insomma adesso ho una larga cerchia di formatori professionisti oltre oceano ovviamente non in Italia perché l'Italia there's no one other than me e ci sono soltanto io come coach professionista abilitata e trainer. Notiamo in genere comunque nella professione della relazione d'aiuto, questo anche per gli psicoterapeuti eccetera ma voglio dire nell'ambito proprio del coaching specifico le persone come direbbe una delle mie trainer Lucia Giovannini tendono a restare aggrappate, resistenza parliamo di resistenza, ai loro problemi e questo grippo, oddio questa perché? Ripete la vecchia storia, you repeat the old story e quello che continua a ripeterti è quello che viene ripresso nella 3D quindi è inutile completamente uno spreco di energia e di tempo fare due minuti pari o anche 20 ore pari di espimi ama, espimi ad ora, sono con la mia persona, sono felicemente sposato con la mia persona e dopo la ventesima ora, raccontare sempre la stessa storia e saturarti nello status quo. O questo però sarà argomento del video di domani perché con il professor di Tomo voglio riprendere delle cose meravigliose che lui ha spiegato che sono state spiegate da Devil e molto altro ma credo che per l'audience italiana potrà essere veramente un game changer, you guys, bene e quindi ok se non hai ancora visto il video di ieri sulla pratica somatica mind body in realtà mente corpo per dissolvere la resistenza proprio quando ti racconti la nuova storia vedilo quindi metti in pausa per favore questo video se così scegli ovviamente sempre e vai a dare subito la visione al video di ieri e è brevissimo dura pochi minuti ha fatto o l'hai già visto ieri perfetto ottimo fantastico che succede se per te quella pratica quindi lo devi sapere non non ti funziona la trovi strana ci cos'è sta roba perché non per tutti subito c'è bisogno di una preparazione per alcune persone per molte persone ripeto il 98 per cento della popolazione mondiale non sa come entrare nel proprio corpo processare le sentizioni la differenza tra emozioni sentizioni calmare e calibrare il sistema nervoso eccetera eccetera quindi quelle sensazioni di quando fai un'affermazione ottenti cerchi di manifestare di ripetere la nuova storia sono fondamentalmente il sistema nervoso che dice no non credo questa cosa le affermazioni robotiche di cui sono una fan svegatata perché they work and they work well funzionano le affermazioni robotiche bypassano tutta questa roba qui ma non tutte le persone sanno affermare roboticamente intenzionalmente è una intera guida un ebook fantabombastico di 68 pagine dedicato tutto questo la puoi scaricare qui sotto nel box info trovi il link per il download diretto la puoi acquistare anche con bonifico adesso quindi troverai il pulsantino la puoi acquistare anche in tre errate quindi ancora in promo a 59 9 se non vado errata e la puoi spezzettare anche in tre piccole comode errate hai questa possibilità basta cliccare su acquista adesso e vedrai ti si apre tutto tutte queste cose tecnologiche io non sono molto tecnologica insomma comunque basta cliccare facilissimo ma tornando in tema di questo benedetto video quella sensazione di chiusura e questa sensazione di contrazione di no non è vero by the way è esattamente lo stesso meccanismo per cui tu blocchi pensieri disfunzionali se non ci fosse questo blocco you guys manifesteremo qualsiasi cosa immaginate il caos quindi meno male in realtà che esiste questa chiusura perché il sistema non accetta una cosa per vera o comunque in istonia con quello che è il tuo autocoscio la tua mente le tue credenze i tuoi assunti generali ritengono non non probabile ok tutto è possibile per un altro naturalmente abbiamo dei condizionamenti condizionamenti che sono utili condizionamenti che sono meno utili l'idea è quella di condizionarti in maniera utile se hai delle domande dei dubbi ricordati che puoi lasciarmi qui sotto i tuoi commenti rispondo gratis sotto ai video sono sempre felice di aiutarti quando ne ho le competenze la contezza le capacità e voglio dire il mio è una delle cose che mi danno gioia da sempre per questo faccio questa professione da tanti anni e non ho mai cambiato so you guys che cosa fai se quella pratica semplicissima che ti ho spiegato ieri in cui ti ho guidato ieri non non ti funziona tanto bene questo livello in un senso più avanzato quindi parliamo che stai facendo una affermazione e hai questo senso di non è vero oppure stai e o stai avendo un pensiero no e stai facendo spiraling in negativo stai spiraleggiando da qualche parte in qualche luogo qui non è buono focalizzarsi quello che voglio che tu faccia è che quindi attenzione questa è una advanced mastery è un qualcosa su cui le persone hanno estremamente necessità di allenarsi per migliorare la nostra società ve lo dico quello che vuoi fare andare la sensazione di chiusura e lo so che è fastidioso ma scappare peggiora la situazione perché scappare in realtà è mettere ancora più resistenza sulla resistenza e quindi facciamo ok il modo in cui tu esci fuori da quella cacca lì è connegarti con quella sensazione disconfortevole e staccare completamente il significato che il tuo cervello di sopravvivenza sta dando alla sensazione che succede primariamente primariamente queste sensazioni sono al modo del sistema per auto segnalare segnalarsi che c'è qualcosa che non va pericolo non sei assicuro quindi automaticamente è normale naturale che assumiamo che c'è qualcosa che non va o pericolo quindi il contrario del wish fulfilled siamo nel wish un fulfilled il contrario del desiderio padato il contrario dello stato in cui dovresti essere qualora il tuo desiderio si fosse manifestato completamente pienamente a piena fruizio e se continuiamo a scappare da queste sensazioni distraendoci per spiraleggiando eccetera eccetera guess what il risultato è che continuiamo è una reazione quindi continuiamo a manifestare quella in un loop senza soluzioni di continuità con continui ti continua così questo schema quello che bisogna fare spezzare il significato quindi ok sto provando queste sensazioni non le giudichi la mente di sopravvivenza deve sempre giudicare tutto qualsiasi cosa quello che facciamo nella pratica nella mia pratica è non giudicare le sensazioni per non giudicarle stacchi completamente il vecchio significato dalla sensazione ed entri in pura osservazione e curiosità ora il cervello questo ovviamente solo chi ha un training e delle certificazioni lo sa e oltre a aver quello deve saper guidare le persone essere abilitato per farlo quindi torna sempre a toccare questo tema non affidarti a chiunque là fuori quando noi stacchiamo il significato di pericolo dalla sensazione ed entriamo in modalità curiosità si disattiva completamente il segnale di pericolo ed entra allo stato di c'è spazio qui in realtà sono al sicuro qui to' curioso questa sensazione mi incuriosisce molto su me stesso me stessa me stessa cos'altro noto di questa sensazione che forma che dimensione che colore si muove sta ferma questa parte del corpo magari vuole muoversi vuole stare e poi la altra il segmento successivo di questo che è proprio l'advance la parte più avanzata è andare a fare un colloquio con queste sensazioni con questa parte ma questo è veramente per non è voglio dire assolutamente necessario è un più che facciamo nelle sessioni di mind body coaching specifiche ora nel momento in cui tu stacchi il significato della sensazione rimani fermo ferma ferma e decisa nella storia che ti stai continuando a narrare in linea con quello che vuoi del desiderio realizzato e osservi le sensazioni quelle che classicamente la gente chiama ansia panico e respiro qui oddio questo incredibile l'uso di energia che sale tutto così sembra un terremoto e ti senti come che è presente l'attacco di panico chiunque ha avuto un attacco di panico sapere come non ripetiamo questa cosa sennò poi si rimprime stop quando cominci a osservare la sensazione la reazione automatica tu sei la consapevolezza che sta osservando un evento 3d perché anche gli eventi che accadono nel tuo corpo sono circostanze 3d non sono chi sei tu tu sei il focus l'attenzione la consapevolezza e come tale puoi staccarti dal significato originale primitivo ed entrare in curiosità cosa sta accadendo questo notando che sto avendo di nuovo queste sensazioni fatte così 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 interessante è interessante questa cosa noto questo continuo a tornare a questo tipo di cose mi chiedo cos'altro sta accadendo per me qui ora quando noi facciamo questo ritorniamo a i am pura consapevolezza lo punto dell'osservatore nel cervello si staccano completamente i vecchi circuiti di sopravvivenza della paura e si attivano le aree corticali superiori e si attiva il messaggio di ai c'è stato pericolo sei assicuro ora in guess what that's the wish fulfilled quello lo stato di sono assicuro sono in controllo sono in potere sono al potere operante il mio desiderio è già stato realizzato quindi una semplice pratica di staccare il significato che stai dando normalmente a quelle sensazioni che ti fanno quindi venire a pericolo e quindi ti fanno venire voglia di reagire ancora di più contraattaccando scappando distraendoti eccetera il mangiare compulsivo e guardare video con qualsiasi cosa che fai appunto forzato a fare ma che non hai piacere di fare perché noti che non riesci a staccare come una addiction è una droga quando fai questo lavoro e ti alleni in questo lavoro questo lavoro è potentissimo per manifestare tutto quello che vuoi te lo dico questo questa pratica è insieme a quella del video di ieri di andare a se l'hai già vista non la ripetiamo se non l'hai vista ma come ti avevo detto e non la vedere ma sempre se così scegli perché qui non c'è mai nulla di obbligatorio mai non esiste stai manifestando tutto tu hai creato tutto questo anche questo fammi sapere qui sotto se ti torna senso come la vedi è abbastanza chiaro hai bisogno di ulteriore input lo darò nei commenti for sure questo mi aiuta ad aiutarvi ancora meglio per il futuro e ti aspetto domani per questa fantabombastica ripresa di questo tema di tom kering la tua i am story ti cambia tutta la partita sono sempre elena tione la tua my body mindset manifestation coach prediletta ora certificata pluricertificata per guidare le persone in queste pratiche se ancora non l'hai fatto iscriviti a questo fantabombastico canale metti mi piace attivati la campanellina delle notifiche ops ti ricordo che i miei due nuovissimi forse le mie nuovissime nuovissime masterclass vincere senza combattere comanda la tua 3d sono ancora scontate comanda la tua 3d ancora il 30 per cento e vincere senza combattere il 50 per cento però solo ancora per poco poco pochissimo tempo fai un check insomma nella nelle pagine che travi qui sotto le puoi acchiappare veramente a un prezzo veramente mini 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 poi la quota salirà quindi sono molto felice delle persone che hanno acquistato queste masterclass sono stata molto molto lieta di ricevere i vostri feedback ovviamente informo tutti quanti che faccio mandare dal mio staff sempre la richiesta del feedback su ogni cosa che faccio perché questo mi aiuta a migliorare quello che vi offro e um that's all fox from you for today noi ci rivediamo alla prossima baci ciao 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 ciao